Se nella vita volete fare carriera, preoccupatevi dello studio e della cultura, perché credetemi, fare le zoccole è difficilissimo. Ve lo dice una che ci sta provando. Chi ce la fa in genere a una mamma o una nonna già inserite nel settore? Perché se no non può funzionare. Veramente, io sono stata fortunata perché ho trovato un'amica molto brava, lei è proprio figlia d'arte, e poi si perfeziona, infatti ha fatto uno stage di perfezionamento a Bari, si sa che Bari è all'avanguardia nel settore. E lei mi dice sempre che per avere successo in questo campo devi avere le palle. Lei si chiama Pasquale.